Eccoci, buonasera, è stata una delle giornate più drammatiche di questi ultimi, già di per sé, come si sa, drammatici mesi. Cosa è successo? Che mentre il leader di Israele, Netanyahu, parlava all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un discorso molto duro, molto grave e in presenza di solo una parte dei delegati perché la maggior parte al suo ingresso e al suo arrivo sul palco se ne sono semplicemente andati dalla sala. Dicevo, in costanza di quell'intervento, o meglio dire, appena concluso l'intervento del primo ministro israeliano, l'aviazione di Israele ha colpito durissimamente a Beirut in un attacco mirato con bombe di una tonnellata di profondità al quartier generale di Hezbollah. Si voleva colpire e uccidere Nasrallah, il capo del partito di Dio filo iraniano, che di fatto è in guerra con Israele da molte settimane. Che sia riuscita o no l'azione ancora non è chiaro, anche se le voci dal Libano parlano di una Nasrallah che sarebbe illeso, che si sarebbe salvato, a differenza del suo numero 2. Ma resta che la tensione non è mai stata così alta e nonostante le cose che sono state dette subito dopo il bombardamento, gli Stati Uniti fanno sapere che sono stati avvertiti di quello che stava per succedere solo quando i caccia israeliani si erano già levati in volo. è un'ulteriore drammatizzazione di quello che è il conflitto medio orientale, è chiaro che Israele voleva colpire al suo vertice Hezbollah, probabilmente non è stato casuale che ciò sia avvenuto in costanza dell'intervento di Netanyahu alle Nazioni Unite, si presume lo stato maggiore del partito di Hezbollah a seguire il discorso del premier israeliano, quindi più facile preda, più facile bersaglio. Ma cercheremo di capire tutto, in una giornata che ha avuto l'altro epicentro, ancora una volta negli Stati Uniti, dove tra l'altro c'è stato l'incontro, quello che era in forse, tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A quanto pare le parti si sono avvicinate, si sa che c'era del freddo e anche Trump ha promesso aiuto a Kiev. Ma poi ci sono tutte le altre notizie della giornata, certo è ovvio che di fronte a tutto questo impallidiscono, sono di minor livello, ma ci sono e come? Perché il governo ha esaminato quello che è il progetto di bilancio del ministro dell'economia Giorgetti, lo aspetta come si sa Bruxelles e sono confermate quelle che erano le voci della vigilia, del resto c'era stato il confronto con varie parti sociali e corpi intermedi. Però ci sono anche due altre novità, è stato varato quel decreto sulla sicurezza negli ospedali, sulla tutela degli operatori ospedalieri e invece è stato rinviato quello sui flussi dei migranti. C'è qualcosa riguardo a questa pagina perché oggi è successo un episodio che è molto indicativo. C'era un gruppo di turisti che stava navigando con una barca da crociera nel sud d'Italia, sotto Lampedusa e hanno avvistato, trovato e salvato un gruppo, un folto gruppo di migranti che erano alla deriva su un barchino. Ma ci sono tante altre notizie perché è una giornata densa di avvenimenti anche di fatti di cronaca e c'è anche quello che avevamo anticipato ieri sera. Effettivamente domani si giocherà a porte chiuse la partita di campionato tra Genoa e Juventus. Dopo gli incidenti gravissimi dei giorni scorsi e tra l'altro oggi con l'arresto di ferito, con la flagranza di ferita che tra l'altro è un soggetto che si troverà anche nel decreto sulla tutela dei lavoratori ospedalieri, sono stati arrestati tifosi sia del Genoa sia della Sampdoria. Tutto questo e tanto altro nel telegiornale che parte tra un minuto.